In un mondo fatto di glamour e sfarzo, dove il cuore e le passioni si intrecciano tra i riflettori, c'è un luogo magico chiamato Uomini e Donne. Ma in questo mondo incantato, anche le rose hanno le loro spine, e oggi vi raccontiamo di un litigio che ha rischiato di far scoppiare una tempesta. Roberta Di Padua e Aurora sono le protagoniste di questa storia che ci ha tenuti con il fiato sospeso. Metti un like al video ed iscriviti al canale per sostenerci ogni giorno. Nel pomeriggio di oggi, gli schermi si sono accesi su una nuova puntata di Uomini e Donne. E al centro della scena c'era Roberta Di Padua, che stava raccontando il suo ideale partner, un uomo con una precisa età e un prototipo che le fa battere il cuore. Ma l'armonia è stata infranta da Aurora, che ha scagliato accuse pesanti contro entrambe. Ha sostenuto che si basassero solo sull'aspetto fisico e che partecipassero al programma solo per cercare visibilità sui social. Cosa pensate di questa affermazione? Secondo voi è vera? L'atmosfera è diventata tesa. E a intervenire in difesa delle due donne è stata Tina Cipollari, che ha sottolineato il motivo dell'irritazione di Aurora. Il suo spasimante finto se ne era andato. Aurora ha ribadito di essere stanca dei giochi di finzione e ha lanciato frecciate velenose. Ha dichiarato che Roberta di Padua è solo una cercatrice di follower, accusandola di essere falsa. Siete del team Tina o del team Roberta? Scrivetelo nei commenti. A questo punto, la situazione si è riscaldata e Roberta si è alzata in piedi, rispondendo alle provocazioni. Aurora, infervorata, ha persino chiesto a Roberta di darle uno schiaffo, accusandola di essere cafona. La tensione è salita alle stelle, e solo l'intervento di Gianni Sperti ha evitato il peggio. Le parole taglienti, i gesti bruschi, e la ricerca di visibilità a ogni costo sono elementi che, a volte, emergono anche in luoghi dedicati all'amore. Cosa ne pensate di questo momento incandescente? Lasciateci un commento per condividere le vostre opinioni.